Romina Power. Ecco quanto prende di pensione. Romina Power è una delle cantanti più celebri in Italia e non solo. Nata nel 1951 a Los Angeles, Romina era figlia di due noti attori americani. Dopo la morte del padre per lei è arrivato il momento del trasferimento in Italia, dove nel 1967 ha conosciuto Albano Carrisi e ha iniziato a lavorare per realizzare il suo grande sogno di diventare cantante. La popolarità è arrivata in fretta e tre anni dopo i due hanno ufficializzato la loro relazione, per poi vincere Sanremo nel 1984 con Cisarà. Soltanto negli anni successivi, nel 1999, si sono separati sia artisticamente sia dal punto di vista sentimentale. Oggi, all'età di 72 anni, Romina è tornata a cantare con Albano e continua anche ad esibirsi come solista, però percepisce anche una pensione ogni mese calcolata in base ai contributi versati dopo tutti questi anni di attività. Secondo quanto trapelato, Romina avrebbe una pensione di tutto rispetto, di ben 2300 euro al mese. Una cifra più alta anche se confrontata con quella che riceve invece Albano Carrisi, il quale ha confessato nel corso di un'intervista di avere una pensione di 1400 euro, che lui non ritiene compatibile con i contributi versati in tutti questi anni. Per qualche motivo quindi Romina avrebbe una pensione ben più alta di quella del suo ex marito, ma lei non ha mai voluto parlare dell'argomento e confermare la voce. Poiché nell'ultimo periodo la voce sulla cifra elevata che Romina Power percepisce come pensione ha iniziato a circolare con insistenza, la stessa cantante ne ha fatto cenno in un'intervista. In riferimento a questo, Romina ha dichiarato di prendere molto meno di quanto dichiarato dai giornali, e di non credere a tutte le voci che vengono messe in circolazione. Sembra però che effettivamente la sua pensione sia più alta di quella di Albano, anche se non se ne conosce la cifra esatta. Infatti, Romina ha versato dei contributi anche per gli anni trascorsi come attrice e non soltanto per quelli come cantante, perciò è verosimile che la sua pensione possa essere più alta. Ad ogni modo, grazie a tutti i guadagni ottenuti nel corso della sua carriera, sembra che il patrimonio di Romina Power abbia superato il milione di euro e che si aggiri attorno ai 2 milioni. Naturalmente nemmeno questo può essere confermato con certezza se non dalla diretta interessata, ma tutto fa pensare che le cifre accumulate siano davvero alte. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate che fosse questa la pensione di Romina Power e vi piace la cantante? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.